Gamba destra, gamba destra. No, no, dentro. No, no, capito? Qua. Oh, pedesto prendi la mia gamba. Fatto! Con braccia destra. Si, si, si. Braccia destra. Oh, da dentro, da dentro. Oh, oh, piano. Fatto. Capito? Da l'altra parte. Posso provare di qua, con sinistra. Con sinistra. Si può, si può. Prova. Si, però, stai, 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 stai. Vedi, deve girare. Stallone molto più. E poi anche ridrezzare. Di là tiri gamba ridrezzare. Ah, con il pallone ridrezzare. Così? No, la gamba deve ridrezzare, e la mia deve ritirare. Però, così non si fa. e di qua ora era costruita e vai 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 verso la gamba oh inclinati bene di là oh sai cosa succede quando ti inclini vedo peso qua? si adesso guarda tu stai qui posso ridrizarmi invece se tu vai di là ah stop capito che quando tu metti tu te per sentire bene vedi hop hop vabbè provi a liberare anche così si sente un po' però vedi provi a liberare vedi invece qua aprono e liberare vedi si va meglio capito? si questo è importante deve essere come un polio sulla macchina così attaccato che avversario dovrebbe scappare che avversario dovrebbe scappare insieme con gambe stop a l'altra parte hop stop entra con talone non con piedra no 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 con talone oh 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 si giro si giro si giro si giro anche gambe oh vai stop capito? ma ti spinge stai con te a chiusura si giro si giro davvero si 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 ischile tipo si si metero metisi te o si metano excuse vedi la ruca metano si zisi bene a chau si si chau vedi 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 no non vei si no e poi guarda aiuto a girare e vado guarda 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 ai 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 Stop, si fai, ok, si adesso guarda come sono io, stop, rimani la, si, fai che muro i miei bracci sinistri, capito, e va, no 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 era tutto giusto, va, si adesso devi correre di la, corri a destra, corri corri corri, giro i miei bracci, bene, meti mi con scena di, meti ci sopra, no no stop, 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 come si, meti ci sopra, comprimi con tua gamba sinistra, e dai sa fai, kimura, come si è uscito, kimura, sbagliati con tua gamba, dimosti stupiti y para ona kimura, ua una botella si, e poi quando sti trovano esta, non meti a destra qua, ora, altra, altra. Adesso metti destra qua Corro, corro, corro